Il Comune di Pistoia ha prorogato la scadenza per iscriversi alle menze scolastiche al prossimo 31 luglio e la scadenza per il trasporto scolastico al 31 agosto. Si tratta di date che non potranno essere prorogate per servizi che da quest'anno potranno avere iscrizione solo via online e si tratta delle scuole, delle infanze primarie sia comunali che statali. Il trasporto e mensa sono servizi fondamentali, quindi abbiamo deciso di dare un pochino più di tempo perché questo passaggio possa essere anche digerito e comunque dare un pochino più di tempo in modo che sia sicuro che gli utenti riescano ad iscriversi al servizio perché bisogna ricordare che dopo la proroga, quindi dopo il 31 luglio o il 30 di agosto il servizio poi non possiamo più iscriversi, quindi è necessario dare un minimo di attenzione e di visibilità. Raccomando quindi a tutti gli utenti che ancora non hanno fatto l'iscrizione di rivolgersi ai servizi educativi. Naturalmente questo passaggio viene anche aiutato, cioè se ci sono degli utenti che hanno alcune difficoltà attraverso i nostri uffici possono avere delle informazioni e anche essere accompagnati nel passaggio dai nostri operatori. Quindi mi raccomando di iscriversi perché essendo cambiate le modalità dobbiamo essere un pochino più attenti nel ricordare che l'iscrizione sta per concludersi. Per le iscrizioni online ci sono pagine dedicate sul sito istituzionale del Comune di Pistoia nel quale assicura l'ente la procedura di iscrizione semplificata rispetto al passato. Vi si deve compilare una pagina digitale con gli allegati, ISE, carte d'identità eccetera che dovranno essere caricate in formato PDF direttamente sui moduli online.